Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come fare la missione di Covredi la giovane Millicent che sta morendo lì alla chiesa quindi dobbiamo salvarla molto semplice basta procurarci un ago d'oro non legato basta uccidere questo comandante che si trova qui e una volta ucciso vi darà sia lo stendardo del comandante e il filo non legato d'oro perché una volta ricevuto questo filo lo date a lui lui lo legherà poi dobbiamo concedergli qualche tempo e fate passare la notte poi ritornate da lui parlate con lui e lui vi darà questo ago legato molto semplice e poi un'altra cosa che vi dirà è quella di accendere le tre torri nella città di Selia dove stanno tutti quei fantasmi accendete tutte quelle tre torri si sbloccheranno alcuni sigilli quelli sigilli all'interno troverete sia bauli che si sbloccherà anche il portone là il sigillo della porta quindi entrate lì dentro e raggiungete quella chiesa dove sta Millicent la giovane che sta morendo lì alla chiesa a causa della marcisenza ecco come potete vedere sono ritornato da lui ha riparato l'ago adesso dobbiamo fargli un favore come potete vedere potresti consegnarlo alla giovane Millicent un ago d'oro puro una volta fatto andiamo lì un av Эacements a vero o raced fate in deed la po- do you find it peculiar that I would show such concern for the girl well I'm the one that found her a mere babe in the swamp of Aonia she is one of my dear daughters but the rotting sickness erodes I doubt that she remembers the first thing about me oh I must be getting old Non l'ho detto, non l'ho... Ora, tutto ciò che hai bisogno di fare è che convalesce in la città, facendo così, e tu dovrai ricevere... Il sigillo che non vi faceva passare, quindi proseguite da questa parte, alla chiesa della Pestilenza, eccola lì, gli diamo il lago d'oro, poi lei farà una cosa, una specie di magia, quindi dovrà... Ha detto dovrò trafiggermi con quel lago e si salverà, una volta che si è salvata, ritornate da lei, vi darà un amuleto da equipaggiare, poi andate dal vecchio Gowry e vi si sbloccherà così gli incantesimi e potete ottenere quella cometa notturna e gli altri incantesimi. E qui adesso ritorno da lui, ci dirà grazie, ti ringrazio veramente, hai consegnato lago, adesso puoi imparare alcuni dei miei incantesimi, più che imparare dobbiamo comprarli? Beh, vabbè, così è, studia stregonerie, eccola qua, la fosca della Vergine dell'Oscurità, scheggia notturna, Questo invece ce l'ho, la stella della scintipietra, ok, ok, a posto, a posto, quindi se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, se il video vi è stato utilissimo, Utilissimo, adesso sto tornando da lei per farmi dare questo amuleto, guardate là, senza braccio, in forma, sta benissimo, quindi, grazie a tutti per questa visione ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! Ciao!